Milano, Bologna, Roma e Napoli saranno le tappe del bacio più cool dell'anno, il bacio del Free Kiss Tour, un'iniziativa di Pianeta Uomo e della Società Italiana di Urologia che si svolgerà tra giugno e luglio. Nelle quattro città si svolgeranno iniziative comuni con un aperitivo, musica con DJ set e la presentazione del libro I segreti del sesso, un originale e utilissimo manuale d'amore dedicato a lui, ma anche a lei, per scoprire i segreti della seduzione e il retroscena del bacio. Le serate saranno animate con il Free Kiss Flash Mob, dove un talent inviterà le coppie presenti a baciarsi per gioco e per amore in un kisser set fotografico, dinamico e coinvolgente. Tutti gli aspiranti kisser riceveranno un omaggio e parteciperanno all'estrazione del bacio più sensuale, in premio un pernotamento per due persone in hotel con welcome cocktail in una romantica città italiana. In una serata con musica, bollicine, buon cibo e tanta allegria, baciarsi sarà facile e divertente. La partecipazione all'evento è aperta a tutti ed è gratuita. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.pianetauomo.eu